Settimana cruciale in casa Lecce. La squadra guidata dal trainer Lerda suona la carica in vista della prossima gara, l'ultima di campionato, contro il Pisa. La compagine giallo-rossa, rifatti nell'ultimo turno di stagione data 4 maggio, rispetta il turno di riposo. Al momento i salentini sono a quota 61 punti per un secondo piazzamento ed una sola lunghezza dalla prima posizione detenuta dal Perugia. I ceciari invece ha 59 passi in classifica e domenica impegnati in casa contro la compagine abruzzese. Da che ha avuto inizio il nuovo anno, il Lecce è riportato nel proprio saccoccio sempre l'intera posta in palio, eccezion fatta per il pareggio a reiti inviolate contro il Catanzaro e la Mara Ocappa o subito per mano del Viareggio. Un turno interessante è quello prossimo per i giallo-rossi e l'Anconetani contro un Pisa, al reduce dal turno di riposo e che riesce a dimostrare un buon gioco in campo. Confronto insidioso poi anche per la prima della classe Perugia contro la Salernitana. Per Miccoli e compagni fondamentali tre punti un pizzico di fortuna, intanto nell'ultimo match cartello giallo-rosso a mancare abruzzese appiedato dal giudice sportivo Lopez e Sacillotto, invece fermi per infortunio. Poi nel turno numero 34 il Lecce starà a guardare cosa sapranno fare il Perugia e il Frosinone nella gara che li metterà a confronto diretto. Una trasferta a quella toscana ultima, fatica giallo-rossa, match che si preannuncia da Cardio Palma.